Oggi siamo venuti a trovare i medici professionisti che operano all'interno del centro dentistico Odonto Service che è incossato da tra l'altro parecchi anni, una quindicina. Parliamo con il dottor Savoini di un intervento che pochi riescono a condurre con questi tempi, queste modalità e questi effetti di riuscita. Ci spieghi tutto, buongiorno. Buongiorno, noi da 15 anni lavoriamo in questo centro, siamo una squadra di professionisti, io mi occupo principalmente della parte chirurgica e ultimamente ci siamo specializzati e quindi le nostre lavorazioni si stanno dedicando in particolar modo alla riabilitazione completa basata su impianti. Sono termini tecnici che possono sembrare astrusi però fondamentalmente consistono nel poter riabilitare un'intera arcata, quindi un'intera bocca che presenti dei problemi o che magari sia al momento semplicemente sostenuta da una protesi mobile inserendo degli impianti a livello gengivale e osseo con un intervento e fornendo poi una dentatura fissa nell'arco delle 24-48 ore. È una lavorazione che prevede l'ausilio di più professionisti di cui io sono a capo ma semplicemente appunto perché svolgo la parte chirurgica però ci avvaliamo sempre dell'utilizzo di un anestesista che permetta al paziente di non avere un impatto faticoso con questo tipo di lavorazione e poi c'è tutta una serie di lavorazioni odontotecniche e quindi nella creazione e nella misurazione dei denti che possono fornire un prodotto specializzato e soprattutto personalizzato alle caratteristiche di ciascuno. E adesso siamo entrati in un altro ambiente nel quale insomma ci sono delle apparecchiature all'avanguardia per chi non le conosce sono insomma quasi spettacolari. Dottore dove ci troviamo? Ma allora siamo in una delle stanze cliniche del nostro studio, sono quattro sale e sono un po' tutte come ha detto lei piene di strumentazioni più che altro per permetterci di avere modo di seguire il paziente dall'inizio alla fine della terapia senza doverlo demandare ad altre strutture che gli farebbero perdere tempo e soprattutto renderebbero un po' più complesso per lui la lavorazione. Questo significa essere più professionisti come ripetevo prima ma poi fondamentalmente avere anche tutti i macchinari necessari quelli chirurgici o quelli diagnostici in particolare di cui appunto per fare un esempio adesso che siamo qui la TAC è uno di questi e la TAC è un esame radiografico approfondito in tre dimensioni che ci permette di vedere l'anatomia delle zone a noi di interesse in maniera estremamente più dettagliata rispetto alle lastre che si facevano un tempo. Diciamo che questo è un risultato sorprendente perché di fatto in pochissimi giorni, due, tre giorni si passa da una bocca con seri problemi sia con i denti o con le protesi mobili ad avere un impianto, una dentatura fissa, permanente. Sì esattamente, non bisogna pensare che gli impianti siano solo per coloro che non hanno i denti bensì il più delle volte servono proprio come strumento per migliorare la qualità di vita di coloro che hanno invece delle protesi mobili o removibili. Allora senta dottore, a questo punto ci dobbiamo salutare, il tempo purtroppo è tiranno, dove possiamo trovarvi? Sì, noi siamo a Cossato, in via Mazzini 2M, lo studio dentistico è al primo piano, in un centro che si chiama Centro Esedra, è molto semplice da trovare, è bordo strada. Allora grazie mille davvero, a lei e a tutta l'equipe che lavora all'interno dello studio, buon lavoro. Grazie.